A mantenere i suoi spettimati, preparare i marro spicchi a cominciare la tornata. Poi preparare i picciritti, a campanare la pensionaria, a tomare e a fare felici. Tu la mano, unta la suva e con l'occhio, saluro, giù non mangiare a preparare. Poi all'uion arriva la sera, il marito sta a pittonare, non lo va a rumoreare. Giù si scappa, capa, tu si fici, curi, scappa, capa, tu si fici, curi, scappa, capa, tu si fici. Giù si scappa, capa, tu si fici, curi, scappa, tu si fici. Giù si scappa, capa, tu si fici, curi, scappa, capa, tu si fici. Giù si scappa, capa, tu si fici. Tu a pisare, va a toccata, tu le danza e a soffa, allora tu che fai? E l'uion arriva la casa, il marito sta a cattare, 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 non lo va a rumoreare. Il marito sta a cattare, il marito sta a cattare, i marito sta a cattare, non lo va a rumoreare. E che gran camurria che sei!